Dopo la durissima presa di posizione della sovrintendenza che ha diffidato dal proseguire i lavori il privato che vorrebbe costruire una centralina sul Brenta arriva un'altra voce di grande impatto. E' quella del direttore della difesa del suolo della regione del Veneto che ha scritto una nota alla ditta avvertendo di non proseguire con alcuna opera fino alla fine della vicenda giudiziaria che incombe sul progetto. Va evitata, si legge nella lettera, l'esecuzione di opere che per il caso di annullamento del titolo dovrebbero essere rimosse e che nel frattempo potrebbero anche recare pericolo sotto il profilo idraulico. La regione ricorda che la sovrintendenza con una nota del 24 dicembre ha evidenziato che i lavori sono sprovvisti di specifico nulla osta, considerato che le opere sono potenzialmente dannose per la tutela e la conservazione dei beni culturali presenti nell'area. Ha invitato il privato a presentare una regolare istanza. E la regione ricorda anche che il mancato rispetto delle normative di tutela del paesaggio e dei beni monumentali può comportare risvolti di carattere penale. A questo punto hanno preso ufficialmente posizione tanto la regione quanto la sovrintendenza. Chi non prende posizione è invece il sindaco Elena Pavan, che sulla centralina si è espressa l'ultima volta il 15 ottobre dell'anno scorso, in occasione del sequestro dell'area di cantiere. Quel giorno il sindaco definì avventata l'ultima operazione del privato nel sito, poi più niente. Per carità, nessuno chiede al sindaco di essere avventato a sua volta, ma con due pronunciamenti così importanti non prendere posizione farebbe passare il comune di Bassano per un don abbondio, in un romanzo sul quale potrebbe presto essere scritta la parola fine.